La città metropolitana di Cagliari tende la mano alle piccole e medie imprese con un importante contributo a fondo perduto da 3 milioni e 240 mila euro. L'avviso presentato già inizio luglio in concerto con la Camera di Commercio è stato pubblicato e si rivolge a quegli investimenti riguardanti lo sviluppo digitale, una vendata di speranza quella fornita dall'ente subentrato dal 1 gennaio 2017 alla provincia di Cagliari e che racchiude 17 comuni dell'area vasta. La città metropolitana è articolata tra la conferenza metropolitana costituita dai 17 sindaci, il consiglio metropolitano composto da 14 consiglieri eletti con funzione di indirizzo e controllo e il sindaco metropolitano Paolo Truzzo. Ed ecco che le piccole e medie imprese con sede operativa unità produttiva nella città metropolitana potranno godere di questo sostegno. Questo importante contributo rappresenta sicuramente un'iniezione di fiducia nei confronti delle piccole e medie imprese della città metropolitana e un bando che ha anche un contenuto e delle modalità che erano auspicate da tempo dalle piccole e medie imprese stesse. Sì, auspicate da tempo per vari motivi, intanto per le modalità, questo è un bando abbastanza particolare e direi anche originale nel panorama sardo, cioè è un bando che finanzia le micro e le piccole imprese sino a 15.000 euro, finanzia al 100% a fondo perduto e soprattutto la particolarità è che dà le risorse tutte in acconto e quindi le imprese non devono anticipare risorse ma prima ricevono le risorse della città metropolitana e dopodiché le spendono e quindi i controlli vengono fatti dopo. È un bando che ha come tema principale quello dello sviluppo digitale delle imprese, questo naturalmente è un ragionamento che è venuto fuori su richiesta delle stesse imprese che in questo periodo di emergenza Covid sempre più hanno visto quanto sia importante svilupparsi ed essere più competitivi proprio utilizzando e sfruttando le tecnologie del digitale e quindi abbiamo voluto in qualche modo indirizzare questo contributo che è fino a 15.000 euro quindi non è tantissimo però per le micro e le piccole imprese soprattutto perché al 100% e perché appunto non devono anticipare è un qualcosa di veramente importante. Le regole del gioco sono poche e sono anche abbastanza chiare, le imprese potranno già dal prossimo 4 di settembre iniziare a collegarsi al sito www.cittametropolitana.caglieri.it per iniziare a registrarsi e a caricare le domande attraverso questa piattaforma appunto che è Istanze Online della Città Metropolitana e quindi preparare il loro progetto attraverso naturalmente le loro idee quindi i preventivi che si faranno fare dai loro fornitori e preparare tutti i documenti in modo che il 21 di settembre a partire dalle 10 possano attraverso una PEC inviare la domanda di partecipazione. Le modalità di selezione, questo è un bando a sportello per cui non si farà tanto una valutazione dal punto di vista qualitativo, è stata una scelta questa perché dobbiamo fare le cose in fretta e veloci per dare risposte immediate alle imprese. Quindi se avessimo dovuto anche valutare gli aspetti qualitativi dei progetti avremmo dovuto creare una commissione che avrebbe dovuto lavorare per mesi magari per poi dare delle risposte. È un classico bando a sportello, una volta che le imprese raggiungono una soglia minima di ammissibilità data da alcuni punteggi che noi abbiamo stabilito nel bando farà fede l'orario di invio della domanda di partecipazione. Una volta che si è ammessi e quindi si rientra diciamo fino a che bastano le risorse che sono comunque di 3 milioni e 240 mila euro quindi non poche risorse. Una volta terminate le risorse noi chiudiamo, le imprese ci faranno la richiesta, la domanda di avere il contributo, si firma una convenzione tra la città metropolitana e le imprese, si erogano le risorse e le imprese avranno un anno di tempo per realizzare l'investimento e poi rendi contare. Questo è l'impalcatura della nostra idea di bando e ospichiamo anche che una idea del genere, una proposta del genere possa in qualche modo anche essere ripresa da altri enti che volendo si possono anche agganciare alle nostre graduatori quindi noi ospichiamo anche che qualche ente magari che ha risorse a disposizione possa attingere da questo nostro elenco di imprese per cercare di finanziare anche quelle che purtroppo poi non riusciremo a finanziare noi. Parlavo di fiducia perché poi i controlli saranno effettuati successivamente. Sì questo è un aspetto molto molto importante perché abbiamo cercato di dare un segnale forte alle imprese come dicevamo di fiducia perché spesso la pubblica amministrazione parte, questa è una mia opinione personale, un po' dal preconcetto che non ci si può fidare dell'imprenditore. Noi riteniamo e l'amministrazione Truzzo lo sta dimostrando in questo periodo che invece sia importante dare un segnale di fiducia perché soltanto con la sopravvivenza e lo sviluppo delle piccole imprese in Sardegna si riesce a fare economia e quindi bisogna in qualche modo anche fidarsi naturalmente con tutti gli strumenti che la norma ci consente perché noi chiederemo una fiduzione che è un costo comunque ammissibile e scaricabile per cui comunque l'impresa si può scaricare questo costo perché comunque qualche problema ci potrebbe pure essere in maniera di massima non bisogna facciarsi la testa prima e bisogna dare un segnale forte e importante che non sia soltanto perché ultimamente anche con l'emergenza Covid si sta lavorando molto verso il fronte dei prestiti alle imprese però il problema delle imprese che oggi veramente sono a corto di liquidità e anche un prestito significa comunque un qualcosa che l'impresa deve restituire e in un momento come questo è veramente complesso quindi abbiamo voluto dare un contributo appunto non elevatissimo ma che se sfruttato bene può sicuramente essere un segnale importante per le micro imprese. Una certa soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco metropolitano Paolo Truzzo. Siamo partiti da una fase di ascolto nel momento di redazione del piano strategico della città metropolitana è emersa questa volontà delle imprese di avere un sostegno da parte dell'amministrazione, da parte della città metropolitana e quindi abbiamo pensato di rimodulare delle risorse che avevamo e far sì che si potesse creare un bando semplice un bando non a sportello ma comunque che garantisse all'azienda una modalità semplice di partecipazione, cifre non altissime ma comunque sino a 15.000 euro con delle risorse che venissero anche anticipate perché molto spesso le aziende che fanno prima i progetti spendono i soldi e poi devono richiederli all'amministrazione noi invece vogliamo anticiparli e darli a fondo perduto. Quindi questa è la logica con la quale abbiamo voluto dimostrare in un momento tra l'altro di difficoltà anche per le amministrazioni pubbliche che le amministrazioni sono vicine al mondo delle imprese perché poi il mondo delle imprese è quello che permette ai territori di crescere. La tipologia dell'investimento a cui saranno destinate queste somme è quello del settore tecnologico e dello sviluppo tecnologico. Anche questo è un importante segnale per il futuro? Questo è un segnale che insomma è frutto anche del periodo che stiamo vivendo. La situazione di crisi, crisi sanitaria, l'emergenza del coronavirus ci ha dimostrato quanto siano importanti le tecnologie per chi fa impresa, quanto possono aiutare anche a superare una serie di gap che ancora di più ha chi vive in un mondo insulare come il nostro e abbiamo fatto anche un altro ragionamento. A Cagliari esiste nella città metropolitana un ecosistema abbastanza forte nell'ambito dell'innovazione tecnologica e quindi abbiamo cercato di unire da un lato delle opportunità per le imprese cioè quello di fare un lavoro sull'innovazione tecnologica, di mettersi al passo coi tempi o migliorare già a quanto era a loro disposizione, dall'altro a fornire un sostegno anche ai professionisti che lavorano in questo settore, alle aziende stesse che lavorano in questo settore considerando che è un settore importante del tessuto economico e sociale della città metropolitana. Diciamo prima dell'anticipo di questa cifra, questo invece è un segnale di fiducia verso le piccole e medie imprese che la città metropolitana sta mostrando? Ma chiunque conosca il mondo dei finanziamenti che abbia avuto a che fare con la pubblica amministrazione sa che molto spesso la difficoltà è che si realizzano i progetti, si spendono delle risorse e poi ci vogliono magari anni per riuscire o a avere l'ok o comunque avere la restituzione dei soldi in questo modo invece abbiamo voluto dare proprio fiducia come hai detto alle imprese mettere subito i soldi, mettere subito la liquidità nelle loro mani per fare degli investimenti anche che rimanessero, che gli permettessero ovviamente di migliorare la qualità complessiva della propria azienda e poi ovviamente faremo il controllo successivo. Però è importante in questa fase che le aziende abbiano subito i soldi e abbiano la possibilità di spenderli con semplicità. La tipologia degli investimenti riveste un ruolo cruciale, un ruolo che va anche al di là della crisi post-Covid che suggerisce un percorso di crescita anche a lungo termine. Quello che ci siamo dati come compito è stato nel momento diciamo di grande crisi sanitaria e successivamente economica capire come si poteva rapportare il piano strategico di fatto ad un aiuto concreto al territorio e come potesse entrare anche in un piano di sviluppo e di crescita per tutto il territorio e in particolare quindi anche per il nostro tessuto produttivo quindi per le imprese. In quell'occasione quindi è nata l'idea di realizzare un bando che potesse concedere un contributo ma non fine a se stesso, non solamente legato alla crisi ma che potesse accompagnare le nostre imprese e quindi le micro e piccole imprese che costituiscono la grande parte delle imprese presenti nel territorio verso un percorso di crescita. Un percorso di crescita legato ad uno sviluppo digitale e in generale all'innovazione. Questo requisito diciamo che è nato anche da un sondaggio che è stato fatto online dalla città metropolitana come ente che ha avuto un grande successo di risposta da parte delle aziende in cui è emerso da parte di tutte le aziende una grande necessità di crescita verso il digitale e quindi abbiamo pensato che lo strumento migliore fosse concedere un contributo in questo caso anche a fondo perduto a queste imprese per accompagnarle in questo percorso di crescita renderle maggiormente competitive e soprattutto dotarle, dargli la possibilità di dotarsi di nuovi strumenti di lavoro che potessero andare incontro alle esigenze del distanziamento obbligatorio in questo periodo ma che allo stesso tempo potessero anche renderle più competitive sul mercato tramite strumenti di e-commerce, di cloud computing, tanti altri strumenti digitali che sono tutte le spese diciamo ammissibili in questo bando. Le cose che hanno vissuto un periodo molto difficile con l'emergenza Covid sono state falciliate anche economicamente in questo senso la città metropolitana dà un segnale di vicinanza alle stesse? Sì, è proprio questo uno degli scopi principali di questo bando dare un segnale di vicinanza alle imprese perché quest'ente che accompagna tutta l'area vasta possa dare un segnale alle imprese di vicinanza e di accompagnamento verso una ripartenza in generale ma anche di crescita verso un mondo sempre più digitale.